Lo scontro rap che sta scuotendo l'Italia GX vs Paolo Meneguzzi. Ciao, amici di Amica Gossip. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e attivare tutte le notifiche, così non vi perderete nemmeno un gossip scottante. Ora, passiamo alla notizia più calda del momento. Immergiamoci nell'ultimo scintillante scontro tra le star. La tensione tra GX e Paolo Meneguzzi è esplosa sui social, e i due artisti si sono scambiati frecciatine a suon di rime. L'ultima mossa di GX è stata quella di rilasciare un brano a sorpresa, intitolato L'invidia del Meneguzzi, il cui testo lo trovate in descrizione sotto a questo video, in cui ha affrontato direttamente le critiche di Meneguzzi riguardo alla musica contemporanea. Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato quando Meneguzzi ha dichiarato, in un'intervista, che l'estate 2023 è stata priva di belle canzoni, definendola addirittura deprimente. Un commento piuttosto pesante, in particolare nei confronti del tormentone Disco Paradise, interpretato da GX insieme ad Annalisa e Fedez. Questo ha scatenato la risposta furiosa di GX, il quale ha scelto il suo stile rap per replicare a modo suo. Con rime taglienti, GX ha ribattuto alle critiche di Meneguzzi, sottolineando che le canzoni possono non connettere col pubblico, ma che in fondo è responsabilità degli artisti. Ha anche sottolineato l'importanza di avere una fanbase solida, che ti sostiene anche nei momenti meno mainstream. Non sono mancati attacchi personali, con GX che ha ironizzato sulla carriera di Meneguzzi e sulla sua doppia cittadinanza svizzera e italiana. La rivalità tra i due sembra essere molto profonda e ben radicata. Ma non finisce qui. GX ha lanciato una sfida a Meneguzzi, invitandolo a scrivere una canzone simile a «L'avvelenata» se davvero si considera un bravo artista. La palla è ora nelle mani di Meneguzzi e tutti si chiedono se risponderà a tono o lascerà perdere. E voi, cosa ne pensate di questa epica battaglia musicale? Credete che Meneguzzi accetterà la sfida di GX? Fateci sapere la vostra risposta nei commenti. E se volete rimanere aggiornati su tutte le news e i pettegolezzi dal mondo dello spettacolo, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Amica Gossip. Alla prossima puntata!